Per una donna essere sexy non è qualcosa che si improvvisa e deve essere uno stile, perché la cosa peggiore che fa scadere spesso le donne nel ridicolo è di cercare di diventare sexy a spot, cioè quando magari hanno un appuntamento con un uomo che gli interessa, allora tirano fuori capi di abbigliamento più sexy, cercano di mettere i tacchi alti, abbigliamento intimo, sensuale, ma non si rendono conto che non essendo abituate rischiano di cadere tutto sommato nel ridicolo, perché traspare qualcosa a pelle se vogliamo che ciò che fanno è un qualcosa di artificiale, è come nella seduzione, la seduzione può essere sì imparata, può essere sì un processo artificiale, ma deve essere fatto diventare un processo naturale, un po' come guidare una macchina inizialmente è un processo artificiale, quindi io imparo a guidare, devo fare degli sforzi, devo ricordarmi delle cose eccetera, poi diventa naturale, cioè è un processo artificiale che è diventato naturale. E così l'essere sexy, se diciamo non assumo uno stile di vita che è uno stile proprio, modo di fare, che mi dà quella capacità intrinseca di esternare sensualità, non riuscirò a manifestarla, trasmetterla al momento opportuno, insomma non si vincono le gare se prima non si fanno gli allenamenti. E quindi devo imparare a essere sensuali in ogni momento della mia vita, una donna deve imparare a essere sensuale e sexy quando va a fare la spesa, col lattaio, col giornalaio, anche paradossalmente quando è in casa da sola, perché sono degli atteggiamenti che piano piano si assimilano, che entrano dentro di noi, quindi la capacità di muoversi in modo morbido, avvolgente, protettivo, la capacità di camminare come si deve sui tacchi alti, la capacità di indossare, non lo so, ad esempio un tubino stretto oppure con eleganza, sedendosi nel modo giusto, non ti puoi sedere nello modo se è una tuta la ginnastica o se è un tubino stretto. E quindi sono la capacità di gestire le scollature, il make-up, una donna che non si trucca mai e decide di fare una volta ogni tanto, o se lo fa fare da qualcuno o eccederà in qualcosa, non riuscirà a fare le cose in modo armonioso, perché la sensualità vuol dire prima di tutto armonia, armonia col proprio corpo, armonia con se stesse. E quindi è un processo che si può imparare, ma devi allenarti, quindi allenati proprio con le persone che non ti interessano, dal lattaio, al panettiere, insomma, e riesci a cogliere di essere sensuali quando, diciamo, vieni guardata ma non giudicata, perché spesso, diciamo, si confonde l'essere sexy e sensuali con l'essere provocanti che poi scade con l'essere volgare. E questo, diciamo, genera meccanismi di squalifica, quindi è un qualcosa che va fatto quotidianamente e devi impegnarti a farlo. Nel momento in cui lo fai e ti guardi allo specchio inizierai a sentirti così, nel momento in cui ti sentirai così si innesterà un loop virtuoso per cui diventerai come ti senti. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!